Al grido di Allah Akbar ha tentato prima di forzare la porta del Basilica di Sant'Alfonso l'ingresso ovvero al museo e alla biblioteca nonché alle residenze dei padri redentoristi per poi accanirsi contro l'altro portone, quello della congrega. Un marocchino ha inveito contro i presenti, erano le sei e mezza del mattino, erano pochi ma erano giunti qui in piazza, era ancora buio alcuni fedeli per assistere alla celebrazione della messa delle sette del mattino quando è arrivato il sacrestano Peppe Forino è stato aggredito, l'uomo ha tentato di sottrargli le chiavi per aprire il portone alla resistenza del sacrestano, ha sfondato con un calcio questa porta ed è entrato all'interno della congrega. Di qui sono accorsi anche gli altri padri che erano presenti, in primis il superiore, padre Luciano Panella che hanno tentato di bloccarlo sul posto prontamente, due pattuglie dei carabinieri della locale tenenza che hanno fermato l'uomo, lo hanno arrestato sul posto. Il rito direttissimo per lui, l'accusa è di terrorismo. Padre Luciano Panella, che cosa è accaduto? Lei può raccontarcelo perché è testimone oculare di quello che è avvenuto questa mattina? Sì, intorno alle 6.40 ho ricevuto la notizia da un fedele che c'era una persona, un uomo che dava in escandescenza in escandescenza davanti alla Basilica e che aveva aggredito anche il nostro sacrestano Peppe Forino al che subito mi sono recato sulla piazza per capire che cosa stava succedendo. Ho visto un gruppetto di fedeli che voleva entrare in chiesa e che stava fuori e che cercava di fare fronte a questa inaudita violenza di questo individuo che voleva a tutti i costi entrare e che avrebbe pure attaccato Peppino, ma c'è stata una colluttazione e lui sta bene assolutamente. Al che abbiamo deciso di non intervenire noi fisicamente perché questo esprimeva una forza fuori dal comune. Ho richiamato anche i carabinieri che erano stati allertati precedentemente e che poi da lì a poco sarebbero intervenuti. Nel frattempo questo individuo prendeva a calci la porta con molta forza, la porta della congrega finalmente riuscendo ad entrare dopo un po'. Quindi entrando qui ha messo un po', ha rovistato un po' tra le cose, tra le superlettili e poi ha preso di mira l'altare della Madonna. Per due volte l'ho allontanato anche tenendo il peggio per me perché lui si è rivolto nei miei confronti ma non ho cercato assolutamente il confronto fisico con lui e poi alla fine è riuscito a dare un calcio molto violento al vetro che è antisfondamento però è stato lesionato come si può vedere e quindi questi sono i fatti. Avrebbe voluto sottrarre la statua della Madonna dall'interno? Non credo, lui era fuori di sé, non so se aveva qualche intenzione particolare però certamente lui ha puntato la sua violenza su un luogo di fede, un luogo simbolico e questa è la cosa grave. Nessuno si è fatto niente però non possiamo aspettare che qualcuno si faccia qualcosa. Poi lui proferiva anche in modo distinto il nome di Allah e il sacrestano l'avrebbe udito anche dire Allah Akbar quindi il grido che a tutti fa un po' paura.